Sì, non lo devi guardare negli occhi. Non lo devi guardare negli occhi? No. Sì, è vero, l'ho visto in televisione. Sennò si confondono e i processi mentali gli vanno in tilt. Li devi guardare sul mento, come se io guardassi te, ma in realtà ti guardo il mento. Sì, mi sembra che adesso mi guardi, invece no, giusto? Sì, tipo Monna Lisa. Loro ti seguono con lo sguardo in qualunque punto della stanza e poi si mobilizzano. Cosa importante che vi dovete mettere in testa è che questi chiacchierano, si riuniscono e spettacolano. Questo è importante. E l'ultima cosa che ci serve è che si riuniscano e dicano Ah, questi si fanno beffe di noi, loro vengono e noi li trattiamo come uno di noi. D'accordo. Ok, come noi, li trattiamo come noi, li trattiamo come noi, li trattiamo come noi, li trattiamo come noi.